Buonasera a tutti, quindi ufficiale partiamo, siamo molto contenti di questa serata perché era tanto tempo che stavamo provando a organizzarla, tutte le difficoltà possibili sono intervenute ma insomma siamo qua, non vediamo l'ora di cominciare e devo raccogliere un appunto altrimenti sicuramente salto qualcosa di quello che devo dire, Luca Andrioni innanzitutto è un artista molto importante, tra i più quotati della sua generazione, è un docente altrettanto importante noi lo stiamo seguendo oramai da un po' di tempo con la nostra attività qui a Sarzana di spazi fotografici e abbiamo già avuto occasione di insomma di saggiare la sua bravura quindi siamo davvero contenti, parto subito a ringraziare innanzitutto l'amministrazione di Sarzana e la direzione, scusate lo leggo perché è difficilissimo, la direzione regionale dei musei di Liguria perché ci ospitano, ci hanno dato la possibilità di essere in questo spazio, siamo davvero contenti, speriamo che sia la prima di una lunga serie di attività che faremo qui a Sarzana, me l'hanno scritti bene ma io non ci leggo, dunque fortezza firma fede, lo devo dire per chi non lo sapesse siamo a Sarzana, la fortezza firma fede, saluto quelli che sono a casa, che ci seguono in diretta, speriamo numerosi e noi abbiamo la fortuna di essere qui a Sarzana e ce la godiamo. Li dico tutti, mi stanno suggerendo, allora dunque abbiamo innanzitutto la banca della Versiglia, l'Unigiana e Garfagnana che ci ha dato i soldi come l'amministrazione e quindi non possiamo che nominarla, anzi li posso leggere qui, abbiamo Fotoema, Grimaldi Impianti che ci ha salvato con tutta la tecnologia, DMP che sono quelli che ci hanno fatto ritardare la diretta ma sono bravissimi. Li ho detti tutti? Sì. Allora questa sera è un'occasione speciale che abbiamo voluto aperta un po' perché ci piaceva così, ma per poter coinvolgere il più possibile quelli che ci seguono e anche quelli che ci vedono per la prima volta perché è un'occasione per noi speciale in quanto non solo c'è Luca Andreoni qui ma è un po' la prima diciamo lezione zero, chiamiamola così, anzi forse è scritto da qualche parte, è la prima occasione di 16 incontri che faremo per un corso di fotografia specialissimo, tutto a distanza purtroppo in tempi di Covid, però altrettanto potenziale perché alla fine abbiamo scoperto durante il lockdown che si riesce a imparare e a godere tantissimo di bravi docenti e quindi abbiamo organizzato un corso che racconterà la storia della fotografia dal punto di vista degli artisti. Luca Andreoni farà la parte diciamo più lunga, però abbiamo interventi molto importanti, Giovanni Chiaramonte, Mario Cresci, Linda Fregni-Nagler, Francesco Iodice che sono tutti artisti molto molto quotati, con una chicca finale che è Roberta Piantavigna che è assistente curatore al Museo di San Francisco, al MoMA di San Francisco, quindi non vediamo l'ora di cominciare, siamo veramente cari che se qualcuno vuole informazioni sicuramente Francesca o Rossella vi aiutano, direi che si può iniziare, non faccio presentazioni sulla serata perché anche per noi è una sorpresa totale, quindi sappiamo che abbiamo sentito qualcuno che ha già avuto la fortuna di ascoltarla, ci ha confermato che sarà molto 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 avvincente e non so, non voglio dire altro. Luca Andreoni, mi sono dimenticato qualcosa? No. A posto, possiamo andare, spegniamo le luci e via. Buonasera a tutti e grazie. Mi tolgo la mascherina, scusatemi, non ce la farei, non ce la farei tutto questo tempo. Grazie di essere qui e grazie anche a quelli che ci seguono online e grazie a quelli che vedranno questa specie di lezione nel tempo su YouTube. È un esperimento anche per me, è un po' particolare come cosa, ovviamente come potete immaginare, ma quando con gli amici di Spazi Fotografici ci siamo inventati questo corso di storia della fotografia da fare tutto online, ho pensato di propogli questa lezione che è particolare perché è la prima lezione che io faccio sempre nei miei corsi. È una lezione che io faccio soprattutto a studenti del primo anno che di solito non hanno idea di che cosa sia la fotografia. Nell'anno di corso che io faccio, per esempio, l'Accademia di Belle Arti di Bergamo, di solito gli faccio cambiare radicalmente idea. Ecco, con questa prima lezione tendo a dargli una prima vague idea di quanto sia complessa, meravigliosa e ricca la vicenda della fotografia nella sua storia, nel tempo e anche nel contemporaneo, di quanto sia importante oggi, quanto sia diventata importante la fotografia. Allora, tengo a dire una cosa, in questa occasione particolare non farò, vi risparmio, diciamo così, la parte che per me è più divertente ma è più impegnativa per il pubblico degli studenti, di solito, perché io comincio con una mezz'ora nella quale di solito non dico niente. Io faccio vedere una immagine e su quella dico, ok, dite voi che cosa vedete. Ora, in questa situazione, oltretutto con questa diretta, col fatto che non potremmo far girare i microfoni tra le persone, insomma, abbiamo deciso invece che vi racconterò che cosa negli anni, un po' di anni, un po' di anni nei quali ho mano a mano fatto e limato e cambiato nel tempo questa lezione, gli studenti mi hanno detto, così che abbiate anche un po' di divertimento alle loro spalle. Non è questa l'immagine che vi farò vedere, l'immagine sulla quale di solito resto a lungo, in questa occasione ci staremo un po' meno, però è un'immagine importante, molto importante per accennare da subito ad alcune cose. Questa è un'immagine che molti conoscono, chi si occupa di fotografie di arte contemporanea, perché è un'immagine che fa vedere una installazione che apparve per la prima volta nel 2011, ma che poi è stata ripetuta, esposta in numerosissime occasioni, anche in Italia, una volta, credo, a Torino. Ed è di Eric Kessels, un artista olandese che lavora con la fotografia, non fa fotografie, usa le fotografie. E questa installazione mostrava, si intitola 24 Hours in Photos, faceva vedere il lavoro che lui aveva fatto, aveva raccolto tutte le immagini che in 24 ore venivano pubblicate in quello che allora, dieci anni fa, era il social più importante per le immagini, cioè Flickr. E evidentemente ne aveva raccolte milioni, le aveva stampate tutte e aveva riempito le sale dei musei o delle gallerie d'arte con queste fotografie. Questo è il primo livello di lettura di queste immagini. Guardate, nel tempo io, anche leggendo commenti di altri, eccetera, ne ho accumulati 7-8 livelli. Il primo, ovviamente, è quello, oddio, le immagini sono tantissime oggi, no? Oddio, come facciamo? Ecco, anche questa è una cosa su cui potremmo parlare per un'oretta, perché per esempio, secondo me, non è un problema. Ma siamo perfettamente in grado di affrontare la cosa. Però questo, diciamo, è il primo livello, è la ragione per cui è nata questa installazione. Io faccio vedere, però, questa fotografia, perché ci sono tante, no? Di questa installazione, che è molto nota, ci sono tante immagini. Ma questa mostra un ragazzino che si è messo comodo, e già questo è un altro piano, no? E ha fatto una cosa importante, alla quale noi, per esempio, non pensiamo, cioè, in questi milioni di fotografie ne ha scelta una. Ed è lì tranquillo che la sta guardando. Ora, questa cosa qua è quello che tutti noi vorremmo succedesse quando pubblichiamo la nostra foto su Instagram. La nostra foto va su Instagram e, in un attimo, è insieme a miliardi di altre immagini su Instagram apparse nell'ultima mezz'ora. Ma noi vorremmo tanti like, cioè, vorremmo che tanti di quei bambini guardassero la nostra immagine, non quella degli altri, no? E questo, quindi, è già un altro elemento che possiamo trarre da questa immagine. L'altra cosa, che è la ragione per cui siamo qui, è che il ragazzino si è messo bello comodo e non sappiamo quanto a lungo abbia guardato quell'immagine. Ma potremmo pensare di sì. Cosa succede? Se facciamo una cosa che non facciamo mai, diciamo, ammettiamolo, non lo facciamo mai, o meglio, lo facciamo quelle volte che, distrutti dall'essere obbligati in vacanza, andare nei musei, finalmente vediamo come un miraggio quelle poltrone di pelle, ci sediamo per riposarci, finalmente, e ovviamente davanti abbiamo un quadro qualunque, o una scultura qualunque, quella che capita davanti alla poltrona, e quella la guardiamo per quei cinque minuti che stiamo seduti. Ma noi le cose le guardiamo velocemente, perché sono tante, perché non ci interessano, perché siamo abituati a sfogliare o a scorrere rapidamente le cose. E noi crediamo, guardando così velocemente le cose, di aver capito tutto di quell'immagine, di quelle immagini che vediamo. Ecco, purtroppo non è così. Purtroppo, alle volte, qualche volta, se noi ci fermassimo un po' più a lungo a guardare, potremmo scoprire qualcosa. E questo è l'esercizio che io faccio fare all'inizio dei corsi a tutti i miei studenti. Cosa succede se io vi faccio vedere una sola immagine per mezz'ora? E io non dico niente, e voi studenti provate come l'investigatore che entra per la prima volta nella stanza del delitto, e tutto quello che c'è nella stanza potrebbe essere l'indizio decisivo per risolvere il crimine, ma lui non può sapere quale di questi è. Per cui la prima cosa che fa l'investigatore è di fare una lista. Semplice. Quali sono tutte le cose che vedo in quel posto? Allora, l'immagine che io faccio vedere è un'immagine, tra l'altro, molto semplice. È questa. Ecco, a questo punto io di solito ho detto, ok, guardatela, e quando vi vengono delle cose da dire, anche le più semplici, anche proprio le più basiche parlate, vi assicuro che di solito passano almeno dieci minuti di orologio, che è anche una ragione per cui non possiamo farlo adesso. Beh, voi siete magari più dinamici, ok, siete meno timidi, però di solito passano dieci minuti perché qualcuno osi, volete che provo a stare zitto per trenta secondi, così ve lo immaginate moltiplicato per denti, quanto è lungo? Guardate questa immagine per un po'. Ok, vado avanti. Immaginatevi tanto di più di silenzio. Poi qualcuno comincia a salire timidamente la mano. E qual è la prima cosa di cui parlano sempre, ogni volta? C'è un uomo, c'è una figura al centro dell'immagine. È interessante, eh? Su Instagram va fortissimo questa cosa. Il piccolo mino al centro dell'immagine, noi per qualche ragione tendiamo a riconoscere gli esseri umani e a focalizzare la nostra attenzione su di essi. È una cosa antica, no? È una cosa da decine di centinaia di migliaia di anni fa, no? L'altra figura umana, l'altro, devo beccarlo subito, riconoscerlo, anche se si mimetizza. E cominciano ad analizzare questa figura che è un po' misteriosa, perché è una figura che ha il volto coperto, no? Ha la testa coperta, ha due piccole, due sporgenze laterali. Lì comincia a scatenarsi la fantasia, mi chiedono, ma non si potrebbe vedere un po' più da vicino? E io glielo faccio vedere, gli dico, è uno dei due particolari che vi farò vedere. E subito cosa dicono alcuni? Ha le stampelle. Questa persona, che per strane ragioni cela il volto, ha le stampelle. Un'altra delle cose che dicono, guardate, io non lo dico per, come dire, fare ironia, no? Perché sono sicuro che anche molti tra di voi, e guardate che questa lezione non l'ho fatta solo agli studenti, l'ho fatta anche a platee molto esperte. E ogni volta sono uscite fuori cose surreali, a dimostrare che noi vediamo moltissimo, ma guardiamo poco. Cioè, lo sguardo fisso è molto più difficile da gestire. Questa persona è vestita anche in un modo particolare da quel poco che si capisce, per cui alcuni dicono che non sia una persona, ma sia un manichino. Sia un manichino. Qualcuno, ovviamente, a un certo punto avanza l'ipotesi che invece sia un fotografo. Un fotografo che magari usa quelle vecchie macchine che si usavano, che si vedono nei film western col panno sopra la testa, da cui... Allora, poi torniamo indietro all'immagine generale. Qualcuno fa delle osservazioni molto semplici e dice, beh, c'è una specie di sentiero fatto di pietre, assomiglia a quasi una strada romana, qualcuno dice, con questi grandi alberi che, diciamo, sembrano una foresta, ma sembrano anche piantati apposta, perché sono abbastanza allineati. Non si capisce bene dove vada a finire questa strada, sembra che dopo quella supposta persona ci sia qualcosa... sembra che la strada finisca, oppure fa una curva ma non si riesce a vedere bene. E qualcuno, per esempio, comincia ad avanzare ipotesi sul luogo dove sia stata fatta questa fotografia, perché sicuramente, professore, quegli alberi sono sicuramente delle sequoie, per esempio. E allora potrebbe essere stata fatta in Nord America questa fotografia. Una cosa che io dico, io dico quasi niente, al limite faccio delle piccole domande, però alcuni addirittura a questo punto cominciano a immaginare che cosa ci sia fuori dalla fotografia. E questo è un momento bellissimo, di solito. Allora, la fotografia è un rettangolo chiuso, specifico, e noi non sappiamo che cosa ci sia, non so, di là, a sinistra. Dopo quegli alberi cosa c'è? Un grattacielo di 30 piani? Una foresta che... non lo sappiamo, non possiamo saperlo. Uno dei gesti fondamentali del fotografare è quello di inquadrare, cioè di tagliare via un pezzo di realtà senza farci vedere quello che c'è fuori. E su quello i fotografi, come se ci giocano, no? Possiamo giocarci pesante anche, no? E infatti alcuni cominciano a immaginare delle cose. Guardate, una volta una ragazza ha fatto un intervento lungo, meraviglioso, raccontandoci, raccontando a tutta la classe che cosa c'era dopo quella curva. Una radura con delle case. E questa persona con le stampelle stava andando verso la radura con le case. La fotografia è un'immagine, è la stessa parola di immaginazione. Noi possiamo immaginare che cosa c'è fuori dalla fotografia. Ovviamente, banalmente, la maggior parte di noi immagina la continuità, perché quello che noi desideriamo nella vita, come siamo piccoli animali spaventati, è la continuità, vogliamo essere rassicurati, per cui sicuramente qua c'è una foresta enorme, no? Non è solo una fila di alberi, ce ne sono altre 50 di queste file, no? A un certo punto qualcuno comincia a fare un'osservazione abbastanza intrigante, cioè nota questa parte che sembra una specie di gradino, di scalino, no? e immediatamente qualcuno interviene e dice «Abbè, ma allora alle spalle di questo c'è una casa, c'è una casa, c'è qualcosa che guarda a questa strada». A un certo punto poi qualcuno nota che in basso a sinistra c'è una piccola scritta e io dico «La volete vedere?» «Certo che la vogliono vedere» e gliela faccio vedere. La scritta è questa, che è una scritta un pochino ambigua, perché nella maggior parte dei casi suggerisce subito l'idea di un indirizzo, no? Un indirizzo. Il numero 148, poi c'è questa parola road, che è una parola inglese, no? Che aiuta un pochino l'ipotesi che quegli alberi siano alberi americani e che quindi siamo negli Stati Uniti, ma il resto della scritta, specialmente quelle ho col trattino sopra, immediatamente a qualcuno fanno pensare alla Finlandia e a qualcuno fanno pensare al Giappone. Succede raramente che qualcuno nomini subito il Giappone, ma posso anche dirlo subito, svelare questo segreto, Tonnikko è in Giappone, ok? Allora, a questo punto, e devo dire, questa è una cosa incredibile, però non succede sempre, però dopo almeno un quarto d'ora, venti minuti, io adesso ho, come dire, trasmesso accelerata una cosa che di solito succede abbastanza lentamente, a un certo punto qualcuno dice che qua c'è un altro fotografo. Cioè, se questo è un fotografo al lavoro, non lo sappiamo ancora, ne siamo sicuri, magari sono stampelle, magari un manichino, ma se è vera l'ipotesi che quello è un fotografo al lavoro, qua c'è un altro fotografo, che detta così è una banalità, è una cosa che noi diamo per scontato, perché noi quando guardiamo le immagini ci entriamo dentro, non facciamo mai un passo indietro come invece dovremmo fare, e capendo che la fotografia è sempre un'immagine costruita da qualcuno che ha deciso, per esempio, di non inquadrare quel palazzo di Trentapiani che abbiamo detto, non dimostrato, ma abbiamo detto, magari sta là, non ce lo fa vedere, ci fa pensare che sia una foresta, è una persona che ha deciso quella cosa. E se è lui il fotografo, probabilmente è anche la persona che ha deciso di farci vedere una cosa un po' particolare, un fotografo fa vedere un fotografo al lavoro. In termini contemporanei, questa è una metafotografia, è una fotografia che parla di fotografia. E vi assicuro che se c'è una linea di tendenza chiarissima nella ricerca in fotografia nel supercontemporaneo di oggi, quello che ormai è sfociato nella contemporanea, contemporanea, è proprio questo. La gran parte delle fotografie fatte dalle più giovani generazioni di alto livello nella ricerca, europee e così via, sono metafotografie, sono fotografie che stanno riflettendo in un momento di passaggio forte, no? Qual è quello dell'arrivo del digitale e così via, stanno riflettendo sulla fotografia, no? E ecco, a questo punto, come dire, l'analisi tende a fermarsi, salvo un altro aspetto, un aspetto diciamo globale, no? Qualcuno fa delle osservazioni sul colore di questa immagine, no? E dice, ma ci sono dei colori un po' strani. Qualcuno fa l'ipotesi che sia una diapositiva come quelle che ha visto magari dai nonni, questi ragazzi sono giovani, vedono le diapositive degli anni 50 dei nonni, oppure che sia un effetto di Photoshop che ha prodotto questo aspetto, ecco sì, un po' pittorico, no? Qualcuno addirittura dice, ma non sarà che è una fotografia in bianco e nero che è stata dipinta? Allora, tutto l'insieme di queste cose messe in lista producono le liste, come vedete, io ne ho detta solo qualcuno, ovviamente si può andare avanti all'infinito, però io dico, allora, intanto vedete quando, su un'immagine così semplice, una persona, su un sentiero barra strada, in mezzo degli alberi, insomma, se la trovassimo nelle pagine di una rivista, quanto ci stiamo? E invece adesso siete qua, siete costretti, già da quanto, non ho misurato, ma intanto io parlavo, ok, vi intrattenevo, ma intanto c'è sempre, ah, eh, state tranquilli, perché adesso tra poco comincia una cosa per cui nella prossima ora ve ne faccio vedere 160 di immagini, ok? Su molte delle quali potreste fare lo stesso esercizio, però, eh, davvero, davvero, la maggior parte delle immagini importanti della storia di fotografia richiederebbero questo tipo di lavoro e richiederebbero forse, ma qui esagero ovviamente, il lavoro che io ho fatto a partire da dieci anni fa su questa immagine, a partire da questa immagine, perché la prima volta che l'ho vista mi ha colpito moltissimo, io che già dieci anni fa ero già abbastanza sgamato con la fotografia, insomma, ci ho dedicato tutta la mia vita alla fotografia, è ovvio che certe cose le ho capite subito, no? Quei numerini là sotto, ho capito subito che questa era una fotografia fatta in Giappone, nella seconda metà dell'Ottocento, che faceva parte del catalogo di un commerciante di fotografie, di un artigiano della fotografia, non di un grande artista, ma era il numero, quel numero, quel numerino, è come in tantissima fotografia commerciale che gli studi vendevano ai viaggiatori, perché sapete, la fotografia allora la facevano solo i fotografi, pensate che roba, io che sono fotografo, l'età dell'oro, no? Dice, solo i fotografi fanno le fotografie, perché? Perché è complicato, è veramente complicato, costoso, in Giappone poi, devi fare arrivare dalla Francia o da Londra, tutti questi materiali, poi la nave affonda dicendo, guarda, le lastre arrivano tra tre mesi, perché i pirati, le cose, guardate che per inciso questa è una delle ragioni per cui in Giappone nacque quasi subito poi un fiorente, una fiorente industria di materiali fotografici e non faccio nomi ma pensate ai nomi della maggior parte delle macchine fotografiche di oggi se non hanno nomi giapponesi, perché? Perché era lontano da tutto il Giappone e quindi a un certo punto hanno detto vabbè, cominciamo a farle noi le cose perché ora che ci arrivano le cose dall'inghese, allora questo numero qua è un numero di catalogo di un umile fotografo che vendeva ai viaggiatori le sue fotografie ma la cosa che a me ha colpito molto io sono sempre stato appassionato di fotografia dell'ottocento ho studiato tanto anche io non sono uno storico non sono uno studioso con tutti i puntini sulle i io ho bisogno dei lavori degli studiosi per leggere i loro libri per parlarci per conoscere cose che poi come dire consegno al mio pubblico di studenti di solito anche semplificando molte cose come faccio anche stasera semplificherò una tale marea di cose che metà ne basta però quando ho visto questa immagine io ho subito pensato al fotografo che aveva fatto questa immagine cioè ho fatto subito quel passo indietro che dovremmo sempre fare quando vogliamo studiare un'immagine perché qualcuno ha preso delle decisioni e vi assicuro che data che era complicato fare fotografie era costoso era tutta una serie di cose richiedeva appunto questi mezzi grossi pesanti laboriosi trattamenti eccetera decidere di fare per ragioni commerciali per venderle negli album per esempio la fotografia di un fotografo al lavoro nell'ottocento non è un gesto banale oggi i fotografi addirittura se le fanno loro si fa mania dei selfie anche i fotografi si fanno i selfie si fanno quelli più elegantemente li chiamano backstage mi faccio vedere mentre lavoro che è una cosa un po' a me sembra sempre un po' ridicola il calzolaio deve avere le scarpe rotte il fotografo non deve apparire il fotografo è sempre un passo indietro e io mi sono subito detto ma chi ha fatto questa fotografia e questa domanda per dieci anni mi ha portato a studiare a cercare a trovare anche qualcosa che è l'argomento della lezione di stasera ok e allora cominciamo cominciamo questo signore è il comodoro Matthew Perry il comodoro nel luglio 1853 arriva davanti alle coste del Giappone e Dubai davanti a quella che oggi si chiama Tokyo che non era la capitale del Giappone allora la capitale da sei secoli era ecco con la memoria comincio a stare male era un'altra era Kyoto la capitale arriva con quattro navi da guerra americane per chiedere tre cose uno per favore se una nave fa naufragio sulle vostre coste potete evitare di trucidare tutti i marinai che si salvano dal naufragio due potete darci almeno una ma sarebbe meglio tre porti dai quali possiamo commerciare con voi e la terza cosa instauriamo relazioni diplomatiche perché questo perché dal 1640 il Giappone era completamente chiuso ad ogni contatto col mondo esterno salvo una piccolissima isola dove stavano alcuni olandesi ma potete capire che in sostanza era completamente isolato il Giappone nel 1853 è ancora più o meno uguale a com'era nel 1640 immaginatevi non solo l'Italia nel 1640 per dire Bernini e Borromini erano a Roma e si litigavano le commissioni più importanti come vivevano a quel tempo ecco nel 1640 c'è un mondo feudale in Giappone ci sono gli shogunati e ancora nel 1853 così ci sono tipo 250 diverse prefetture militari ognuna comandata da una specie di comandante militare insomma una cosa è un mondo completamente isolato un mondo straordinario che il comandante Perry con stile puramente americano infatti l'anno dopo torna con nove cannoniere e migliaia di soldati convince tra virgolette il Giappone a dire ok apriamo apriamo apriamoci al contatto con l'occidente questa è una bellissima illustrazione del 1854 che fa vedere queste che i giapponesi chiamano le navi nere perché erano già navi a carbone no? nel 1850 come già c'erano le locomotive da tempo anche le navi avevano queste ruote viaggiavano anche a vela ma potevano andare e arrivano queste navi da guerra nella Baia e a quel punto a quel punto i giapponesi non è che si arrendono però accettano l'inevitabile no? e accettano che in tre porti questo è un'altra bellissima situazione che fa vedere il comandante Perry mentre appunto discute fa questi trattati gli americani sono i primi ovviamente a ruota poi arrivano gli altri arrivano gli inglesi arrivano i francesi arrivano quelle che erano le grandi potenze dell'epoca no? siamo in perfetta piena epoca coloniale e così via e questa era l'isoletta no? l'isoletta vicino a Nagasaki dove invece c'era già un piccolo nucleo occidentale di contatto ma era veramente minimale veramente minimale e invece pochi anni dopo vedete già questa è un'immagine di Matthew Brady uno dei più grandi fotografi americani che stava che era basato proprio a Washington questa è la prima ambasciata giapponese la prima ambasceria giapponese che vada negli Stati Uniti nel 1860 oppure bellissima anche questa del mitico Nadar a Parigi la missione nel 64 allora iniziano questi contatti i contatti non sono solo diplomatici sono anche commerciali militari di vario tipo ho un piccolo inciso ne farò parecchi scusate ma io studiando tutte queste cose mi sono divertito troppo a scoprire delle cose che non sapevo come si faceva andare in Giappone all'epoca la strada più breve la più breve era partire da San Francisco negli Stati Uniti attraversare tutto l'oceano Pacifico sulla rotta per Hong Kong Hong Kong era già un protettorato britannico eccetera era un posto importante per il commercio eccetera insomma attraversando tutto il Pacifico all'incirca un mese e mezzo di navigazione dice allora vabbè sono a San Francisco mi faccio un mese e mezzo di nave arrivo in Giappone sì ma per arrivare a San Francisco nel 1860 San Francisco aveva 50.000 abitanti pochi contemporaneamente New York ne aveva già quasi un milione 850.000 quindi il grosso della gente per esempio negli Stati Uniti doveva attraversare tutti gli Stati Uniti per arrivare a San Francisco allora per arrivare a San Francisco c'erano due modi o usavate allora per dire la posta i mitici Pony Express ci mettevano vedete questa pubblicità che dice con clamore 10 giorni per arrivare a San Francisco cioè se io sono una busta a cavallo al galoppo tutto il tempo ci metto 10 giorni per arrivare a San Francisco sì ma se io sono una persona se sono una persona devo salire su uno di questi cosi e ci metto tre mesi per arrivare a San Francisco poi aggiungo aspettando che parta la nave proprio quando io scendo dalla carrozza un altro mese e mezzo per arrivare in Giappone non era così semplice c'era un altro modo c'era un altro modo un po' più tranquillo e anche più sicuro perché scarrozzate di voi per le non so quante sono 6.000 miglia su questa cosa qua e vediamo in che condizioni ne arriviamo era una cosa da duri potevate andarci per nave tra l'altro in California avevano scoperto l'oro la prima grande corsa all'oro che avviene negli Stati Uniti è in California avevano appena appena proprio comprato la California dal Messico taxi scoprono l'oro ma che coincidenza gli americani sono bravissimi in questo e in nave che strada dovevate fare? dovevate fare questa strada qua tre mesi di navigazione compreso Capo Horn là sotto che non è proprio il massimo del divertimento pare e quindi vi facevate questa navigazione e arrivavate belli tranquilli a un certo punto hanno fatto il canale di Panama però era il 1920 c'è voluto no non vale il canale di Panama ancora però qualcuno si fermava a Panama attraversava a piedi quel pezzo di territorio diciamo che guadagnava un mese se beccava la nave che andava a San Francisco perché non è che ci fosse tutto sto traffico di navi allora lo dico per far capire quanto era proprio lontano il posto più lontano il Giappone quindi c'erano questi due modi per arrivarci dagli Stati Uniti e dall'Europa o negli Stati Uniti la cosa si accorcia tantissimo quando nel 1869 fanno la ferrovia finiscono la ferrovia transcontinentale è un'epopea straordinaria raccontata anche nel film questa è quella della costruzione della ferrovia a quel punto sapete quanto ci voleva arrivare a San Francisco sette giorni fantastico sette giorni e poi un mesetto di nave e arrivo in Giappone però nel 69 ci voleva ancora un po' di tempo e se ero in Europa se ero in Europa dovevo prima arrivare in India e poi farmi tutto quel giro che lo capite da soli che non è poco oltretutto attraversando baie piene di pirati e così via e per arrivare in India dovevate fare sto giro il capo di Buona Speranza nel 1869 lo stesso della ferrovia americana però fanno il canale di Suez e la strada si accorcia un po' allora insomma veramente sto Giappone era lontanissimo ed era incredibile per cui da subito quelli che ci arrivano sono militari sono diplomatici ma sono anche degli avventurieri sono anche persone che si trovano veramente al capo del mondo e vogliono vogliono anche sfruttarlo perché non dimentichiamo che siamo nell'epoca del colonialismo nell'ottocento si chiama colonialismo nel novecento si chiama imperialismo oggi non so con più come lo chiamiamo ma insomma il concetto lo capiamo ci sono alcune nazioni che nel tempo si sono arrogate questa idea di essere superiore a tutte le altre magari superiori tecnologicamente di conquistarle militarmente e così via il Giappone nel giro di trent'anni guardate questa immagine è del 1895 ci sono i pali del telegrafo ci sono i tram a cavallo c'è la ferrovia già negli anni settanta il Giappone nel giro di venti o trent'anni passa ad essere un mondo feudale praticamente fermo al 1600 fa una specie di salto spazio-temporale è pazzesco e diventa una nazione moderna come le altre sotto lo sguardo dell'imperatore a quel punto di un imperatore illuminato che si apre agli stanze occidentali alla modernità arrivano le ferrovie arriva tutto quello che c'era già in Europa nei paesi più avanzati da tempo e insieme a tutto questo arrivano anche benedetti o maledetti loro i fotografi la fotografia era stata inventata nel 1839 ufficialmente e in maniera esplosiva aveva conquistato ovunque una specie di potere sulla produzione di immagini polverizzando letteralmente i risultati di quelle che per secoli erano state le altre discipline per produrre immagini il disegno la pittura l'incisione e così via la fotografia arriva e fa veramente una specie di strage delle altre tecniche per produrre immagini che infatti immediatamente diventano quasi solo arte cioè la parte alta della produzione di immagini che noi chiamiamo arte ma c'è anche un sacco di altre cose ecco la fotografia ha spazzato via quello e arriva in Giappone già proprio nei primi anni 50 subito dopo insieme perché perché è un veicolo formidabile per raccontare il mondo con il suo realismo e i viaggiatori che non possono ancora loro fare fotografie cominceranno verso il 1875 80 85 89 arriverà la Kodak con la sua prima macchinetta allora comincerà la massificazione della fotografia ma prima no portano a casa delle fotografie fatte da degli studi degli studi che all'inizio sono fatti da fotografi occidentali che vanno a stare in Giappone e producono questi album meravigliosi devo dire sono meravigliosi vengono venduti gli album completi oggi vengono venduti nelle aste importanti no e com'è tradizione nell'ottocento di questo tipo di produzione fotografica è una produzione che oggi potremmo paragonare alla più umile cartolina c'è una curiosità per un paese di alto livello culturale con una storia ricca storia che l'occidente vuole conoscere e quindi i viaggiatori riportano con sé a Londra a Parigi negli Stati Uniti e così via questi album che hanno un costo questo è un pezzo di un listino adesso non possiamo analizzarlo ma sarebbe divertente perché le fotografie si potevano comprare a dozzine un album con 50 fotografie o con 100 fotografie insomma allora il capitano si comprava l'album perché ne aveva i mezzi economici magari il viaggiatore più semplice comprava un album più piccolo oppure comprava delle immagini sciolte delle stampe le metteva dentro a qualche contenitore tra delle carte e le riportava così e poi magari l'album lo produceva lo produceva tornato a casa e così via e in Giappone questa tecnica di dipingere di colorare le fotografie perché la fotografia non era colori la fotografia ce ne vorrà perché diventa colori ai primi del novecento cominceranno a esserci i procedimenti commerciali e però c'è una tradizione artistica straordinaria di colorazione di immagini in Giappone che fa immediatamente scavalcare anche da noi anche in Italia si coloravano le fotografie era una delle cose che mancava di più alla fotografia il bianco e nero è già un'astrazione ma la fotografia irrompe sulla scena con il suo realismo e allora io voglio anche il colore ma il colore non è ancora possibile allora le dipingono ma vi assicuro in occidente è difficile trovare la stessa qualità di coloritura che si trova nelle opere giapponesi di quel tempo che ripeto sono fatte da fotografi occidentali all'inizio poi chiaramente arriveranno rapidamente i giapponesi ecco questo è un esempio di un album che ho avuto la fortuna di vedere all'istituto centrale per il catalogo della documentazione a Roma che è la parte del ministero del ministero dei beni culturali che si occupa di fotografia loro hanno un bellissimo album tutto di Felice Beato un autore di cui parleremo tra poco nel quale ci sono in due punti diversi dell'album che è anche curioso devo dire questa che è chiaramente in bianco e nero anche se un po' si data nel tempo e questa che è stata colorata e non è stata colorata tanto bene infatti secondo me non è di Felice Beato ma è stata colorata da qualcun altro ma insomma vedete che differenza tra l'immagine classicamente fotografica e la sua coloritura allora questa fotografia la nostra fotografia se permettete era in bianco e nero e c'è stato qualcuno che l'ha dipinta sicuramente io quello ho capito ovviamente l'ho capito subito nel momento in cui e chi le dipingeva questi signori qua perché? perché da 300 anni in Giappone c'è una tradizione strepitosa di coloritura di xilografie si chiama ukiyo-e c'è anche un'altra tradizione l'ukiyo-e si occupa diciamo soprattutto di scene di vita nelle zone insomma un po' popolari oppure nei quartieri delle prostitute delle geish eccetera nelle città mentre invece c'era un'altra forma simile sempre di incisioni che si chiama meishoe e che si dedicava invece ai paesaggi allora se vi sembra così strano che ci sia un signore giapponese che colora le fotografie a mano forse non sapete come funziona una fotografia digitale di oggi di quelle che facciamo in ogni momento con i nostri smartphone o con le macchine fotografiche se andate a vedervi com'è la tecnica come funzionano i sensori digitali delle macchine fotografiche o degli smartphone che è la stessa cosa capite che vengono scattate tre fotografie in bianco e nero filtrate ognuna con dei colori diversi tre colori fondamentali RGB red green blue che vengono unite per formare un'immagine a colori unite da che cosa? da un software che il più delle volte essendo che la maggior parte le macchine fotografiche sono giapponesi allora a me piace dire senza offesa per nessuno che dentro le nostre macchine fotografiche c'è ancora un giapponesino che colora le nostre fotografie perché è il software che decide che colori vengono noi dopo possiamo intervenire abbiamo Photoshop abbiamo tutte queste cose ma fondamentalmente anche noi facciamo ancora fotografie in bianco e nero solo che non lo sappiamo il più delle volte non ci pensiamo altro breve inciso che potrebbe aprire tutto un altro filone di chiacchiere che potremmo fare volentieri sulla fotografia queste incisioni erano veramente bellissime c'è una tradizione pazzesca in Giappone non c'è bisogno che ve lo dica cioè chi di voi ha studiato un pochino le storie dell'arte gente come Roshige o altri li ha sentiti nominare l'arte giapponese di quel tempo è veramente straordinaria e si occupa di alcuni temi specifici questo è Okusai un altro molto famoso questa arte insieme agli album fotografici arriva in occidente e crea un'attenzione spasmodica soprattutto tra gli artisti allora l'esempio così più clamoroso è Van Gogh che viene influenzato tantissimo questo è Van Gogh che riproduce una tavola di Roshige Van Gogh si esercitò moltissimo c'è uno dei suoi quadri più famosi il ritratto di di Pertanghi che era il il signore che vendeva i colori che vendeva vendeva proprio i materiali per dipingere a questi pittori lui ne fa un ritratto e guardate dietro e sono tutte stampe giapponesi infatti in quel periodo nasce questa questo interesse per il Giappone che viene chiamato japonismo japonismo io sto cercando di tracciare un quadro e poi ogni tanto ritorno alla nostra fotografia allora questi dipinti si occupavano di alcuni luoghi specifici che erano molto importanti nella tradizione anche religiosa e soprattutto anche letteraria giapponese e la cosa interessante è che questi fotografi anche occidentali poi giapponesi vanno a fotografare gli stessi luoghi e ci sono delle vicinanze questa cascata è la stessa cascata di questo bellissimo dipinto e ci sono delle questo eroshige per esempio che questa bellissima incisione fa vedere questa forma che sembra fantastica sembra immaginata ma in realtà esiste veramente i fotografi vanno in qualche modo a fare quello che poi viene fatto anche dalle nostre parti a rivedere il mondo con la fotografia c'è una specie di rielaborazione di cose che si conoscevano già ma che erano filtrate attraverso la pittura attraverso la mano dei grandi artisti la fotografia diventa un procedimento che in modo apparentemente meccanico ma noi sappiamo che non è così riproduce la realtà e quindi questi che erano dei topoi classici proprio tipici per centinaia di anni dell'arte giapponese vengono ripercorsi da questi fotografi anche queste vicinanze sono io le ho trovate affascinanti fanno proprio pensare capire molte cose di come in realtà anche la fotografia abbia portato con sé le istanze e le forme visive anche di forme d'arte precedenti o addirittura anche molto lontane sono degli schemi classici questi che le sto facendo andare velocemente perché insomma il concetto è sempre quello però vedete ce ne sono di tante tipologie e questi album sono pieni di scene di questo tipo perché immaginatevi la curiosità a Londra è tornato il capitano chiama gli amici nel suo salotto e fa vedere questo album nel quale sono rappresentate queste figure che a differenza di quelli che allora chiamavano selvaggi cioè dei primitivi assoluti il Giappone non era primitivo al punto che influenza lui stesso la cultura giapponese smette a influenzare gli artisti europei per esempio quindi c'erano delle forme molto interessanti molto intriganti per tutti in realtà di poi anche qua per esempio questa è una fotografia fatta in studio che ha una è quasi struggente almeno per me vederla guardate quelle strisce d'erba messe lì a simulare un prato quelle palline non stanno volando veramente perché per l'epoca non era possibile all'interno ma in realtà anche all'esterno bloccare il movimento di delle palline che si muovevano velocemente sono appese con dei fili in molti casi questi fili si vedono ci sono ci sono queste immagini di giochi questa è quella che abbiamo usato per la comunicazione di questo evento e poi ci sono i paesaggi ci sono i luoghi oltre ai modi di vivere alle persone questi album mostrano com'è il Giappone mostrano un sacco di cose i templi i luoghi i luoghi del Giappone e mostrano quasi stranamente perché oggi non lo faremmo tanto strade ci sono in questi album spesso e volentieri delle strade io non so mi sono chiesto perché ci sono così tante immagini di strade in questi album secondo me perché semplicemente il viaggiatore aveva fatto quella strada queste che a noi sembrano degli sterrati di campagna erano le strade più importanti del Giappone al tempo rendiamocene conto e in mezzo a tante strade c'è anche la nostra perché questa era una strada importante Nicco era ed è ancora la più importante zona religiosa del Giappone e questa strada tra l'altro c'è ancora perché io non ci sono mai stato ma in rete per esempio ho trovato queste immagini che è lei è ancora lei è messa un po' più a posto ma insomma a me piace tantissimo pensare che quasi 150 anni fa c'era qualcuno su queste pietre che ha fatto quella fotografia e io sto cercando da anni di capire chi era che l'ha fatta e mi piacerebbe andarci a calcare quelle stesse pietre a trovare il punto esatto per esempio da cui ha fatto quella fotografia secondo me è ancora possibile perché è una zona che è preservata gli alberi sono molto cresciuti sono cedri del Giappone tra l'altro io spero sempre che ogni tanto ci sia qualche studente che è anche esperto di botanica che si alzi e dica ma vabbè prof è ovvio quali sono cedri del Giappone non sono sequoie per dire come pensano magari tanti però fino a ora non è mai successo e da qui in avanti visto che questa lezione va su YouTube mi sa che non succederà più però va bene allora io a quel punto ero bloccato perché come faccio e allora ho chiesto a questo signore non è che glielo ho chiesto direttamente Terry Bennett è il più importante collezionista di questo tipo di fotografia è inglese io non l'ho mai contattato perché guardate tutta questa ricerca io conosco anche storici importanti istituzioni eccetera ma l'ho sempre tenuta per me perché voglio che il divertimento sia mio quello che trovo me lo trovo io perché è per divertimento che lo faccio non devo mica risolvere qualcosa non sono un vero investigatore allora Terry Bennett però ha scritto due libri molto importanti qualche anno fa ha scritto questo che si chiama Fotografi in Japan 1853 1912 1912 è più o meno l'anno nel quale abbastanza repentinamente questo tipo di fotografia sparisce finisce perché arrivano le tecniche di stampa delle cartoline e improvvisamente basta ok fatto questo è un pezzo di storia comunque fa questo libro di quei bei libroni pieni di illustrazioni bellissime eccetera nel quale racconta con tutti i materiali dalla sua collezione e io cerco se c'è anche la mia immagine ma non c'è quella che avevo visto però un anno dopo Terry Bennett fa uscire un altro libro più piccolo che costa il doppio di quell'altro lo vende solo un antiquario londinese Old Japanese Photographs Collectors Data Guide che è come dire un libro per nerd per fanatici per ossessionati no? in effetti è un libro mi ricordo il giorno che è arrivato è un libro che per chiunque sarebbe pallosissimo diciamolo perché è un libro fatto solo di numerini Terry Bennett che possiede una quantità enorme di questi album di queste cose le gazzette i cataloghi dei fotografi eccetera ha fatto un lavoro straordinario sulla quale poi i collezionisti ovviamente si sono buttati a pesce di riconoscimento in questa immagine di attribuzione l'attribuzione delle fotografie di questo periodo è allucinante è un problema insolubile praticamente perché? perché questi erano diciamo dei professionisti degli artigiani non erano quell'idea della firma erano quasi medievali in questo sì facevano i loro album le loro cose però poi sai che c'è guarda cambio mestiere vado come felice beato lo dico tra poco a un certo punto si mette più a fare commercio di argento e immobiliare che fotografie e allora poi c'è del suo studio un altro che continua a usarle le sue stesse lastre come le comprate però poi c'era il fotografo di fianco e diceva cavolo che bella fotografia che ha guarda quasi quasi la rinfotografo e mi metto a venderla anch'io e allora come facciamo? Terry Bennett ha cercato di dipanare questo guazzabuglio e dipanando questo guazzabuglio io ho fatto passare tutto il libro guardando tutti i numerini e ovviamente è fatto così con i titoli e i numerini e ovviamente io l'ho fatto passare cercando 148 Tacchino Rod che a un certo punto è spuntata fuori è stato un bel momento quando l'ho vista perché ho detto te guarda ho speso qualche soldo un po' che cerco ho studiato delle belle cose ma finalmente ho trovato posso dire chi era così bravo nella seconda metà dell'Ottocento da fare una metafotografia che è una cosa che adesso fanno i miei studenti perché quelli che se la tirano chi era così bravo? era uno sicuramente bravo leggo e chi è Ogawa Sashiki? mai sentito avevo già studiato un po' ho detto ma però se era in un album di Ogawa Sashiki sarà questo qua leggo la prima riga e la prima riga dice Ogawa's father in law Kusakabe Kimbei il suocero di Ogawa Kusakabe Kimbei Kusakabe Kimbei voi non lo sapete ma Kusakabe Kimbei è forse il più grande e senz'altro uno dei primi veri grandi fotografi giapponesi allora c'è subito la mia fantasia ha cominciato a volare ovviamente perché dico insomma Kimbei ha un allievo diciamo così che è Ogawa che è anche suo genero probabilmente ha sposato la figlia eccetera eccetera e allora qua comincia un'avventura ma chi è Kusakabe Kimbei? che storia ha Kusakabe Kimbei? può davvero essere così bravo di aver fatto una metafotografia nella seconda metà dell'Ottocento guardate questa fotografia ecco questa è un'immagine sulla quale potremmo davvero passare un'oretta perché ci sono tante di quelle cose qua dentro da poter dire e raccontare e collegare con altre cose che non finiremmo più io la faccio breve quel signore con la barba è il barone Raimund von Stilfrid un rampollo di una famiglia nobile austriaca che è in Giappone lo vedete seduto mentre si autoritrae come un pittore infatti lui è anche un pittore guardate quelle macchine fotografiche questa era la fotografia nell'Ottocento lo vedete il treppiede di quella che è una stereo è una macchina stereo per fare le stereofotografie era una macchina piccola quella corrente si vendevano come il pane le stereofotografie perché davano questa illusione di tridimensionalità lo vedete il treppiede sono le stampelle sembrano proprio quelle che abbiamo visto in quella fotografia e lì seduto accovacciato anche questa è un'immagine che parla dice tutto del colonialismo c'è l'assistente del barone Raimund von Stilfrid Cusacabe Kimbei dobbiamo fare un passo indietro perché Stilfrid da dove arriva come mai ha come assistente Cusacabe Kimbei dobbiamo parlare di questo signore che è un nome italiano è nato a Venezia si chiama Felice Beato in realtà è inglese già da bambino vanno la sua famiglia va a stare pare a Corfu e arrivato a una certa età fa un incontro diciamo così fatale conosce incontra James Robertson che poi sposerà la sorella di Beato tra l'altro che James Robertson è uno dei capi incisori della zecca di Costantinopoli per l'impero ottomano lo conosce intorno al 1853 54 il Giappone sta per essere appena scoperto e lì succede una cosa interessante che cambierà la vita di Beato succede che questa per esempio è una bellissima immagine di Robertson sempre da un album che possiede l'ICCD l'Istituto Centrale per il Catale della Documentazione a Roma perché Robertson era un incisore della zecca per l'impero ottomano ma era anche un fotografo infatti con Beato fa una società e aprono un oggi lo chiameremmo uno studio di fotografia vendevano le fotografie ai viaggiatori all'inizio del viaggio in Oriente per forza finivi a Costantinopoli però nel 1855 Robertson e Beato vengono chiamati a fotografare a continuare a fotografare che cosa? La guerra di Crimea avete presente la Crimea? Penisola sul Mar Nero dove anche pochi anni fa è successo un bel casino con la Russia eccetera ecco quel posto lì quell'area lì chissà perché una volta al secolo ci succede qualcosa di forte ecco c'è una guerra proprio tra la Russia e l'Inghilterra e la Francia unite mi pare che si fosse unito anche qualcosa di italiano sabaudo e viene mandato dapprima un fotografo leggendario inglese si chiama Roger Fenton ha una formazione artistica di quelle importanti come tutti i fotografi europei ha studiato con Paul de la Roche e altri artisti a Parigi lui è inglese che fa queste immagini che sono di diritto tra le più importanti e tra le prime immagini di guerra della storia della fotografia ok non possiamo qui fermarci a lungo sulla figura di Fenton ma insomma è uno che in quella guerra in Crimea ha fatto delle immagini straordinarie senza però fotografare la guerra nella sua realtà sacruenta perché era tutto molto lento lui aveva un carro addirittura il carro fotografico con tutti i suoi apparati e si muoveva a volte anche vicino ai campi di battaglia per documentare una delle immagini più famose della storia della fotografia è questa The Valley of the Shadow of Death che da sola basta dirci in questo paesaggio deserto quelle sono tutte palle di cannone è un'immagine celebratissima importantissima famosissima anche perché così è evocativa di atmosfere di quello che è successo ci fa pensare a quello che è successo anche su questo potremmo passarci un sacco di tempo perché c'è un'altra immagine fatta dallo stesso identico punto che è questa e le palle di cannone sono messe tutte di lato e c'è stata bellissima qualche anno fa sul New York Times una serie di articoli di uno che si è impuntato a dire ma quale ha fatto prima Fenton ha fatto prima questa o ha fatto prima questa perché è evidente che o ha preso le palle di cannone e le ha messe sulla strada Fenton è un pittore costruisce le immagini la fotografia non è ah guarda c'ho davanti sta cosa la fotografo certo può essere ma nella maggior parte dei casi quelli bravi le costruiscono le immagini e perfino nell'ottocento qui stiamo parlando degli albori della fotografia immagini che hanno attraversato un secolo e mezzo per arrivare da noi tenute con procedimenti micidiali da fare oggi eppure per forza di cose una di queste due è stata manipolata non vi dico a che conclusione è giunto chi ha fatto questi articoli che è anche andato sul posto ha misurato l'angolo l'angolo solare delle ombre ha fatto un lavoro pazzesco per capire quale è stata fatta prima possiamo arrivarci per deduzioni certo però vi assicuro che sono state discussioni folli per anni di esperti e contresperti per decidere almeno al momento su quale sia comunque Fenton nel 55 si prende il colera che decimava i soldati in Crimea e deve tornare in patria ma un fotografo ci vuole chiamiamo Robertson che è vicino è a Costantinopoli è comunque inglese è fidato si è in società con questo Beato vediamo che tipo è e fanno le fotografie anche loro ci sono le fotografie di Robertson o e o Beato solo che Robertson è un tipo tranquillo si è sposato la sorella di Beato vuole tornare a fare il suo lavoro Beato invece è un vulcano pare che fosse un tipo estremamente socievole che divertiva la gente diventa amico di quasi tutti i grandi capi inglesi dell'armata inglese in Crimea tanto che giusto un paio d'anni dopo quelli gli dicono senti stiamo andando in India a sedare una rivolta perché non vieni con noi e lui certo che ci va Beato va in India e ci fornisce alcune delle immagini lui ha fatto molte immagini anche in Giappone molto cruente immagini di decapitazioni di impiccagioni e così via era uno che non so per qualche ragione era tirato dal dramma e infatti poco dopo andrà anche in Cina per la seconda guerra dell'oppio che arriverà fino a Pechino anche la seconda guerra dell'oppio è una bella storia da studiare sapete una guerra fatta dall'impero inglese per poter vendere l'oppio in Cina l'oppio che producevano in Afghanistan oggi ci suona una cosa stranissima oggi facciamo la guerra ai narcotrafficanti a metà dell'ottocento i narcotrafficanti erano l'impero inglese ok che voleva conquistare il mercato cinese dove invece era proibito l'oppio nei film oggi associamo l'idea a questi tuguri cinesi dove c'è la gente che fuma l'oppio cioè ok vanno e arrivano perché ovviamente tecnologicamente era una potenza era l'impero più grande che ci sia mai stato l'impero inglese per inciso cioè non c'è mai stato nessun impero così grande come quell'inglese e forse chissà se ci sarà mai io mi auguro di no va a Fortacu e questa è una delle prime fotografie della storia la fotografia dove si vedono dei cadaveri probabilmente anche questa è un'immagine un po' costruita nel senso che nessuno vieta un fotografo che usa una grande macchina che ci mette mezz'ora a fare una fotografia perché deve preparare le cose sotto una tenda nera in tempo reale deve usarla ancora umida questa lastra se no non ha sensibilità e dice ai suoi assistenti o qualcuno che lo aiuta e senti scusa quel cadavere lì non è un po' a sinistra no? è un gesto normale del fotografo quello di aggiustare un po' le cose ma queste sono immagini che per la prima volta vengono viste in occidente è la prima volta che si vedono immagini così Beato fa anche delle panoramiche lui era un maestro del fare panoramiche quella cosa che oggi con lo smartphone facciamo in tre secondi l'abbiamo fatta era veramente un lavoro da esperti farla allora e ci sono delle panoramiche bellissime e questa è una panoramica di Pechino 1860 Beato è con l'impero inglese che arriva questa ondata che arriva a Pechino conquista anche Pechino e questo è un dettaglio lì sopra c'è tutta vabbè insomma si vede quello che si vede ma insomma Beato è uno bravo a fotografare è anche uno bravo a farsi valere uno bravo a farsi amico tutti potenti e arriva in Giappone arriva in Giappone e fiuta l'affare smette o quasi lui farà anche altre fotografie di campagne militari ma sostanzialmente apre uno studio uno studio nel quale vende queste meravigliose fotografie Beato è veramente uno dei primi arrivare in Giappone questa è un'iniziazione del 1870 ma Beato già già nei primi anni 60 è in Giappone apre uno studio ed è il primo probabilmente lui oggi abbiamo molte fotografie di questo tipo in bianco e nero di Beato lui per esempio si presenta come artista perché? perché fa vedete quella vignettatura intorno alle immagini è più artistica così è un furbone matricolato Beato si mette subito anche sotto banco a fare investimenti immobiliari finisce in galera un paio di volte è un personaggio dovrebbe farci un film se ci dice Beato ed è però anche un fotografo straordinario che sa vedere delle cose in un modo guardate questa immagine per esempio l'ho trovata in due versioni questa è sempre la di CCD e questa invece in un libro di una collezione tedesca un libro uscito in Italia tanti anni fa è la stessa fotografia evidentemente ma questa è stata vignettata ed è stata colorata in un certo modo perché anche questo è interessante che succedeva spesso in quelle immagini io c'ho la fotografia in bianco e nero o ho delle indicazioni precise su di che colore erano i vestiti per esempio di questi personaggi se no un po' me lo invento un po' me lo invento e quindi ci sono le stesse fotografie con colori diversi ne vedete nelle varie collezioni in giro per il mondo c'è la stessa fotografia ma magari colorata in modi diversi anche lì dovrebbe dirci qualcosa allora Beato è uno bravo a un certo punto travolto da tutta una serie di cose Beato decide di smettere con la fotografia temporaneamente perlomeno in Giappone e dopo un po' infatti andrà via dal Giappone avrà tutto un itinerario ancora un po' complesso da ricostruire va in Birmania lui ha un fratello che sta in Egitto a Luxor Antonio Beato altro grande fotografo dell'Ottocento e morirà a Firenze questa è una cosa che è stata scoperta proprio pochi anni fa si pensava fosse morto a Londra invece è morto a Firenze e queste sono delle vignette che fanno vedere Beato e il suo socio che era un inglese Charles Rigman un giornalista vignettista ma anche insomma aveva una società insieme anche per le fotografie che finiscono in galera Beato va via e vende tutto il suo archivio a questo barone questo barone anche lui è una storia pazzesca io adesso comincio un pochino a accelerare perché lo so che state cominciando a stancarvi io non mi stancherò mai ovviamente di raccontare queste cose che mi hanno appassionato il barone Raymond von Stilfrid guardate questo è il suo albero genealogico un vero barone austriaco dell'impero austriaco lui tra l'altro a me questa cosa piace moltissimo è nato nel 1839 lo stesso anno ufficiale dell'invenzione della fotografia che è una specie di marchio secondo me anche a me sarebbe piaciuto essere nato nel 1839 non potevi che diventare fotografo se nascevi quell'anno e lui ovviamente essendo il rampollo di una importante famiglia barone austriaco va alla scuola militare va alla scuola navale a Trieste già lì comincia a dipingere però il padre gli dice non stare a dipingere che non serve a niente lascia stare il suo maestro parla col padre gli dice guarda che bravo questo qua lascia lo dipingere no 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 cadetto militare cadetto sulle navi a un certo punto decide di lasciare la carriera militare con grande scuola non il padre va a fare il cacciatore di pellizze in giro per il mondo negli Stati Uniti in Peru un avventuriero anche lui e a un certo punto guarda un po' finisce in Giappone anche lui finisce in Giappone e si mette a fare il diplomatico aiuta la carriera la rappresentanza diplomatica austriaca in Giappone perché impara in fretta il giapponese insomma aiuta quelli che arrivano per di far conoscere il mondo giapponese a un certo punto decide di partire riesuma la sua carriera militare perché decide di partire in sostegno dell'imperatore Massimiliano che sta andando in Messico per sedare una grande rivolta è una vicenda famosissima che ha dato adito anche dei dipinti famosissimi questo è Manet ha fatto tre quadri sulla fucilazione dell'imperatore Massimiliano una cosa che sconvolge le corti europee al tempo Massimiliano era diciamo il secondo Francesco Giuseppe era l'imperatore lui era il fratello minore per cui insomma sappiamo non aveva molto da fare allora imperatore del Messico va là e si fa fucilare ci sono fotografie famose questa non sono sicuro se sia un disegno di una fotografia ma di sicuro questa è un'altra fotografia famosa di Massimiliano Stilfrid è nella guardia reale dell'imperatore combatte per due anni in Messico e quando l'imperatore Massimiliano viene ucciso torna in Giappone torna in Giappone e apre uno studio insieme a un altro a un altro personaggio di questi si chiama Andersen e apre uno dei migliori studi rileva lo studio di Beato e comincia una produzione vi faccio vedere qualche esempio perché veramente le opere di Stilfrid sono straordinarie anche per la qualità lui vantava nelle sue pubblicità che aveva i migliori per colorare le fotografie e così via e in effetti fa anche degli studi intelligenti un uomo intelligente un uomo molto colto insomma di grande famiglia ma anche molto colto qua vediamo la stessa la stessa persona vestita all'occidentale e vestita alla giapponese ma in stile moderno sono studi interessanti oggi ma lo erano anche allora fa degli studi quasi antropologici su una minoranza etnica che è nel nord del Giappone gli Ainu che ancora oggi sono studiati provenienza siberiana quindi niente di giapponese insomma e fa fa opere bellissime anche lui a un certo punto per varie ragioni decide di tornare in Austria per fare il pittore non è che fosse sto gran pittore diciamolo come fotografo ha lasciato il segno nella storia come pittore in realtà no e vende tutto il suo archivio per cui capite che qua già le attribuzioni cominciano a complicarsi cioè a diventare impossibili a un italiano Adolfo Farsari un altro avventuriero aveva fatto la scuola militare a Modena dopo il liceo fatto in classe con Fogazzaro io di solito a questo punto chiedo agli studenti chi di voi sa chi era Fogazzaro Antonio Fogazzaro nessuno ovviamente e Farsari fa il militare ma non si trova tanto bene con i Garibaldini a Napoli prende una nave e finisce a New York sposa una vedova fa due figli combatte nella guerra di secessione americana ritorna a New York lavora nel porto di New York comincia a navigare sto riassumendo anche questa sarebbe un'altra bella cosa di cui parlare per un'ora e tra l'altro una vicenda che è stata poi dipanata in anni recenti quella di Farsari grazie al ritrovamento in una villa vicentina di materiali si sapeva che aveva lavorato in Giappone ma non così tanto insomma medita di andare a combattere contro l'imperatore Massimiliano per cui io mi immagino Stilfrid da una parte Farsari dall'altra in Messico che magari si ammazzano a vicenda e noi ci perdevamo un pezzo fantastico di storia della fotografia invece no non va fugge sparisce e finisce in Giappone l'edificio che ospitava lo studio di Stilfrid diventa lo studio di Farsari lo studio di Farsari all'occidentale immagini bellissime anche lui molto molto bravo anche lui le colora con una qualità le sue pubblicità dicono i nostri coloristi impiegano almeno mezza giornata per colorare un'immagine per cui le nostre immagini costano tanto pare avesse un cartello fuori dallo studio che diceva se non potete spendere almeno tot non state neanche entrare era un personaggio così pare avesse questa strategia con i dipendenti alla mattina scendeva ne prendeva uno assolutamente a caso e lo massacrava di botte dicendogli che aveva lavorato malissimo poi tornava su nei suoi uffici e tutti lavoravano benissimo a un certo punto Farsari decide anche lui abbiamo quasi finito di tornare e ci sono queste questi sono gli annunci le pubblicità perché li faccio vedere perché queste sono persone come noi che un secolo e mezzo fa o un secolo fa hanno fatto delle cose meravigliose e per me non sono come dire delle figure lontane da studiare come un entomologo ripeto io non sono uno studioso uno storico io sono un artista sono un fotografo questi sono i miei fratelli neanche padri fratelli potrei averle vissute io queste cose anzi vorrei però vabbè ognuno ha il suo destino scusate l'inciso ma ci tengo molto anche a personalizzare questa cosa Farsari torna ricomincia a scrivere alla famiglia c'è questa foto meravigliosa fatta nella villa nel giardino della villa di famiglia guardatelo lo vedete è l'unico vestito vestito in un modo stranissimo un personaggio incredibile e alla fine resterà lì resterà lì morirà a Vicenza anche lui avendo fatto un percorso semplicemente meraviglioso molto ottocentesco devo dire dentro alla storia in generale c'è guerra di secessione è tutto insomma ne bastava una di queste cose per ricordarcelo Farsari lascia lo studio e una parte di questo studio Stilfrid l'aveva venduta anche un altro al nostro finalmente Kusakabe Kimbei Kusakabe Kimbei è uno dei primi grandi veri bravi fotografi giapponesi e apre il suo studio che in poco tempo diventa quello più fornito ci sono dei momenti nei quali ha più di duemila opere più di duemila opere in vendita voi entravate sfogliavate gli album vi segnavate i numerini e dice ok fammi un album di cinquanta fotografie con la centocinquantatré la centocquarantadue e così via Kimbei è stato assistente di Beato è stato assistente di Stilfrid primo assistente erano in tanti ma Kimbei aveva cominciato come pittore da Beato ma poi subito era diventato il suo assistente è evidentemente uno che ha cominciato a 18 anni con la fotografia che era appena arrivata e non solo è bravissimo ma sicuramente uno che sa che cos'è la fotografia guardate che roba per simulare la pioggia quelli sono dei fili di cotone sono io che faccio questi rumori col microfono sento dei rumori ogni tanto quei fili simulano la pioggia è fatta in studio questa immagine e così via sono le malizie di un fotografo estremamente esperto e Kimbei invecchia Kimbei invecchia e il suo figlio lui ha un figlio maschio e una figlia femmina suo figlio non vuole continuare il lavoro del padre come ogni tanto succede no? e allora si guarda intorno e c'è il genero il genero è Ogawa Sashiki di cui abbiamo parlato prima io qui non ho più elementi storici ma Ogawa Sashiki era un fotografo basato a Yokohama che aveva sposato Matsu la figlia di Kusakabe Kimbei e che ci si aspettava che succedesse a Kusakabe il cui figlio non aveva voluto continuare eccetera eccetera questo è quanto è scritto nei libri nei libri di Terry Bennett questa è una delle vie di Yokohama e in alto là c'è un cartello che ho scritto Ogawa Photographer queste sono le pubblicità di questo ancora giovane fotografo che purtroppo paradossalmente morirà prima di Kimbei e alla fine io ho sempre detto io non lo so non sono sicuro ma qua c'è un fotografo dannatamente bravo che sta usando la macchina grande quella quella difficile e c'è un altro fotografo che sta usando la stereo quella piccola a me piace pensare che Cusacabe Kimbei stesse viaggiando come faceva ogni tanto per diciamo aggiornare l'archivio insieme al suo discepolo ti insegno a fotografare viaggiamo insieme a me sono sentimentale io no? siamo sentimentali per questo non sono uno storico io non lo so ma ho sempre pensato che Cusacabe fosse chi avesse fatto questa fotografia le mie lezioni terminavano qui adesso potrei dire è finita e ce ne andremmo tutti molto come dire no? sentimentalmente presi ma un anno fa è successa una cosa perché io ogni tanto ritorno a controllare anche certe fonti che seguo anzi sono successe due cose lo Smithsonian Institute che penso molti di voi lo sappiano è il museo più grande del mondo nel suo sito ci sono una quantità di materiali che vengono accresciuti continuamente una quantità enorme e proprio meno di un anno fa mi sono accorto che aveva pubblicato un catalogo di Cusacabe Kimbei un catalogo abbastanza tardo all'incirca tra il 1880 e il 1900 però un catalogo di migliaia di fotografie quindi bello aggiornato e io ovviamente me lo sono scaricato in pdf e mi sono metto a leggere tutto quello che c'era il 148 non c'era o meglio c'è il numero ma non è quello però mi sono accorto di una cosa vedete nel capitolo di Nicco perché era diviso per aree geografiche ci sono due fotografie la 787 la 788 che si chiama View of Tachinoe ok e più avanti ce n'è la 1606 che si chiama Tachino Road e io ho cominciato a dirmi perché io mi immedesimo molto in questi fotografi io dico ma io in catalogo ho già tre vedute che ho anche trovato tra l'altro lui aggiornava il catalogo questo è un esempio a distanza di 10 o 20 anni a volte rifotografava gli stessi posti per cui dice vabbè faccio un aggiornamento io l'ho trovata e queste tre sono queste una due e tre ok però mi sono detto ma cioè veramente aveva bisogno di farne una quarta quando ne aveva già in catalogo due una col numero 700 quindi fatta un po' prima due col numero intorno al 700 e due col numero intorno al 1600 evidentemente arrivate dopo il numero è anche cronologico penso io insomma mi sembra logico no? e ha cominciato a venirmi un po' un dubbio a dire ma veramente cosa accabe voleva aggiungere ancora un'altra fotografia a questa serie che aveva già oltretutto belle belle queste qua no? e poi ho trovato questa sempre nel sito dello Smithsonian è la nostra no? in una versione un po' diversa è una pagina di un album la vediamo decorata lo Smithsonian l'attribuisce a Tamamura Kozaburo che è un fotografo giapponese però un po' più avanti nel tempo che ci starebbe ma io sono convinto che sia attribuita a lui perché è dentro a un album di Tamamura perché fa parte di un album no? ma insomma mi sembra un'attribuzione un po' buttata lì cioè c'è l'album di Tamamura attribuiamo tutto quanto a Tamamura che è anche una via da fare perché ripeto questi casini di attribuzione succedevano continuamente però ho potuto scaricare il file ad alta risoluzione benedetto lui e ho cominciato a guardarla più da vicino e ho visto una cosa che nell'altra immagine non c'era ho visto una cosa che ogni tanto qualche studente acuto aveva avanzato questa ipotesi però non si vedeva così bene nell'altra fotografia che questo cartellino con scritto 148 Tacchino Rod fosse stato appoggiato sopra a un altro a un'altra scritta e infatti qua vedete qua qua sotto ci sono delle lettere che sono state parzialmente coperte è spaventoso ci sono rimasto malissimo quello che ho sofferto in quel momento e sapete cosa ho cercato di fare ho cercato di fare come nel primo film di Blade Runner quando l'investigatore riesce ad andare dietro il muro ho detto io sono bravo con photoshop tolgo quel cartellino vedo cosa c'è sotto non ce l'ho fatta non riesco a capire che cosa c'è e allora sapete cosa ho fatto ho detto Luca sei un cretino perché tu ti fai entusiasmare appena avevi letto Kusaka Bekinbei hai mollato tutto e hai detto vai tutto si spiega è tutto chiaro ma leggiamolo meglio il suocero di Ogawa Kusaka Bekinbei questo l'ho fatto anni dopo di leggere tutto il paragrafo vi rendete conto anni dopo che bella figura ci sto facendo su Youtube dopo anni leggo anche le righe dopo io ho sempre la scusa ma io sono un artista faccio quello che mi pare qualche storico la guarderà questa lezione mi seppellirà non so ma mi diverto e c'è scritto sembra allora Kusaka Bekinbei sembra aver fornito dei contributi al suo portfoglio al portfoglio di Ogawa come agenti di Kajima Sebei e qua spunta fuori sto nome Kajima Sebei potete aspettarvi che un largo numero un ampio numero di immagini che vengono da quell'artista in particolare le immagini di fiori e quelle della serie di Nicco allora io un anno fa ho dovuto azzerare tutto quello che sapevo col quale vi ho ammorbato oggi per ricominciare da Kajima Sebei e finisco con Kajima Sebei che è il più misterioso degli autori di quel periodo perché lui non aveva uno studio e non firmava le sue fotografie lui era il rampollo di una delle famiglie più ricche del Giappone che avevano il monopolio della vendita del sake avete presente il sake immaginate di avere il monopolio della vendita in Giappone e poi come dire muovete il calcolatore ma lui voleva fare il fotografo tra l'altro il risultato diseredato cacciato dalla famiglia ma lui fa il fotografo ed è dannatamente bravo però non fa uno studio dà le fotografie agli altri per cui un po' tutti hanno queste foto di Sebei oggi è quasi impossibile di recente a Tokyo è stata fatta una mostra tra l'altro lui era l'amante della più famosa geisha del periodo questa di cui ci sono moltissimi ritratti si chiamava Ponta e insomma era un grandissimo fotografo a fare alcune immagini sono sicuramente attribuibili a lui almeno così dicono i grandi musei io non lo so questo non lo so però per esempio questa è attribuita con molta più certezza del normale a Sebei e si vede che è uno bravo si vede che è uno che sa muoversi con la macchina fotografica sa introdurre elementi sa costruire le immagini in modo intelligente per cui effettivamente anche lui potrebbe essere allora una dei generi più classici delle incisioni giapponesi sono le fanciulle che vanno a caccia delle lucciole per riempirne delle lanterne di carta è anche una delle ragioni per cui in Giappone già all'inizio del novecento non c'erano più lucciole era una cosa che tutte le giovani fanciulle andavano ai boschi a prendere le lucciole risultato sparite le lucciole dal Giappone ma c'è queste immagini due immagini bellissime di Kajima Seibei di fanciulle con le loro lanterne per le lucciole noi abbiamo un modo di dire prendere lucciole per lanterne è esattamente quello che è successo a me sono partito ho fatto un giro lunghissimo come dal capo di Buona Speranza e sono ritornato al punto di partenza però sapete io sono contento perché adesso io ai prossimi dieci anni c'ho da fare no? la storia è questa qua e adesso è davvero finita è davvero finita qua aspettate un attimo perché io a questo punto faccio colpo teatrale siete stanchi ma vi rifaccio la domanda abbiamo davvero detto tutto di questa immagine? perché c'è una cosa importantissima che noi abbiamo detto ve la dico io perché non voi avete guardato una proiezione oggi tutti specialmente i più giovani vedono siamo sommersi da immagini sì ma siamo sommersi da immagini che provengono dai nostri apparati digitali questa fotografia invece è stata un piccolo foglio di carta che ha attraversato il tempo e il colpo di teatro è che io ve l'ho portata perché qui dentro c'è quell'immagine che un po' di anni fa mi ha fatto uscire di testa e mi ha fatto percorrere questo viaggio di conoscenza che non è assolutamente finito la fotografia fino a 20 o 30 anni fa era questa cosa qua un piccolo foglio di carta sul quale si incidono dei sogni si incidono delle decisioni di qualcuno si incidono delle non lo so questa è la fotografia per la mia generazione ancora questo io lavoro molto con i giovani e sono mi diverto tantissimo col fatto che questa cosa non c'è più non c'è più è finita un'epoca non c'è più oggi c'è un'altra cosa estremamente affascinante forse anche di più per certi versi spero di vivere ancora abbastanza lungo per vedere che cavolo succede ancora però la fotografia è questa questo piccolo foglio di carta ci ha fatto fare questo viaggio stasera noi siamo col covid i distanziamenti io di solito io posso anche farla girare ma cosa succede se la maneggiate tutti io non lo so io volentieri però io di solito dico ok guardiamola non so la metto qua non so come possiamo fare ma vi confesso anche che l'idea iniziale di questo progetto con spazi fotografici era anche quella di di fare qui al castello una bella mostra di queste fotografie perché anche in Italia ci sono collezionisti di queste immagini insomma ci sono nei musei eccetera organizzandola bene purtroppo per ragioni di tempi e diciamolo anche di denari non è stato possibile farlo ma ma prima o poi lo faremo eh perché ne vale la pena perché vanno viste sono piccole sono tra l'altro sono stampe c'è una carta leggerissima una tecnica di stampa si chiama stampa l'albumina che era fatta su dei fogli veramente teri per quello erano incollate anche sugli album però ecco la fotografia è tutto questo e se non cominciamo a amarla così insomma non ne vale la pena ecco ok adesso ho davvero finito grazie grazie allora si sente? sì va bene ringraziamo Luca che ci ha emozionato ci ha tenuto qua quanto? due ore? quanto siamo andati avanti? ah non lo so sono andati avanti così tanto ci ha lasciato anni mesi davanti di studio di indagini di passione per chi è già dentro a questo trip della fotografia niente ringrazio davvero di cuore tutti voi che siete presenti ringrazio Luca perché lo speravamo che andasse a finire così e ci ha lasciato con questo aggancio ulteriore alla mostra che vorremmo fare eravamo quasi pronti non ci siamo riusciti contiamo di andare avanti prossimamente su questo progetto saluto tutti saluto quelli che ci ascoltano da casa adesso magari per i fortunati chi vuole con un po' di attenzione si può avvicinare grazie di esserci stati ringrazio Spazi Fotografi tutti quelli che ci hanno dato una mano quindi Francesca Rossella Simone Tecla eccetera eccetera perché hanno lavorato tantissimo per fare una cosa apparentemente semplice quindi niente buona serata a tutti alla prossima mi fanno dei segni della regia non ci vedo sono senza occhiali ah ok stiamo tentando di partire con un corso anzi partiremo con un corso quindi chi volesse che è interessato può prendere informazioni buonasera a tutti grazie 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 a tutti